Nelle prossime settimane l'inceneritore di Sesto San Giovanni sarà demolito, mentre la dismissione dell'impianto di Cremona continua ad essere rimandata a data da destinarsi, forse nel 2029. Nel Comune milanese il risultato è stato raggiunto attivando, sin dal dicembre del 2018, la collaborazione tra le associazioni ambientaliste e i comuni interessati, che hanno creato insieme dei gruppi di lavoro con l'aiuto di facilitatori e del metodo di lavoro chiamato dibattito pubblico, sperimentato già in Francia e previsto anche in Italia dal Codice degli Appalti. A Cremona per ora un modello del genere che consentirà di aprire una bioraffineria per produrre biometano, fertilizzanti per l'agricoltura e acqua calda per il teleriscaldamento è ancora impossibile e il Comune si confronta solo con le partecipate, non con le associazioni. Domani sera gli stati generali cremonesi dell'ambiente, della salute e del clima si riuniranno per esaminare proprio il modello di Sesto San Giovanni nella speranza di accelerare i tempi di chiusura. Il materiale che viene bruciato, che viene incenerito, ogni tonnellata produce qualcosa come all'incirca 200-250 kg di polveri, quindi queste polveri, queste scorie devono essere inertizzate e quindi produciamo un rifiuto, bruciamo dei rifiuti, a nostra volta produciamo un altro rifiuto, quindi mi sembra che non sia una strada estremamente corretta, perché la quantità di ceneri che si produce è veramente troppa. Non esiste il termovalorizzatore green, qualsiasi inceneritore, qualsiasi termovalorizzatore, anche dell'ultima generazione, avrà sempre e ha un impatto sia sull'ambiente che sulla salute dei cittadini. Probabilmente sarebbe più opportuno non imbonire la gente, ma formulare, formulare dei nomi un po' più corretti, quindi onestamente abolirei il termine termovalorizzatore green.